Mi chiamo Monica e questa è la mia storia. La biologia marina è sempre stata il mio sogno. Mi piace prendermi cura della mia intimità, così come degli habitat sottomarini. Il mio ginecologo proprio mi ha consigliato di provare Saugella Acti 3. Mi sento protetta a lungo dai fastidi intimi. Se ci penso, il rispetto che ho per la diversità del nostro mondo è lo stesso che ho per me e per la mia intimità. Femminile, singolare. Saugella, consigliata dal ginecologo. Grazie.